Vincitore della quinta edizione del premio Città di Penne per la sezione scrittori dal cinema e il regista bolognese Pupia Avati. Alla cerimonia, tenutasi nell'auditorium del rettorato, erano presenti il prorettore Stefano Trinchese, il direttore del DILAS Carmine Catenacci e sono intervenuti in segni ospiti. Enrico Vanzina, presidente della giuria scrittori dal cinema, Marcello Ciccuto, presidente della società dantesca italiana, Paolo Fasoli, dipartimento di dantistica della City University di New York, Monica Bertè, professoressa di filologia e letteratura mediolatina, con moderatore Antonio Sorella, direttore scientifico del premio PN Mosca e docente di letteratura italiana. Pupi vanta la grande capacità di, utilizzando le parole di Vanzina, saper leggere la vicenda umana, combinando la sensibilità di autore cinematografico con la capacità letteraria, guardando e raccontando la storia attorno a sé. Il convegno si è concluso con un lungo applauso di docenti e studenti, fortemente toccati ed incoraggiati dalle parole di questo grande artista.